Ingenti, sequestri e coppie nulla tenenti sono stati disposti dalla procura di Avezzano. Polizia Urbana nel Palazzo Torlonia, proteste dei rappresentanti della Proloco di Ieri in Comune. Sia la centrale di compressione gas via libera deciso dal Ministro dello Sviluppo Economico. Domani il Consiglio Comunale ad Avezzano si procederà alla surroga dei nuovi consiglieri. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. La Procura della Repubblica di Avezzano ha chiesto il sequestro dei beni a due famiglie rom che risultavano nulla tenenti ma proprietari di conti, correnti e beni. Per la precisione si tratta di due coppie di coniugi che sono finiti davanti alla sezione speciale per le misure di prevenzione del Tribunale dell'Aquila. La richiesta è stata avanzata dal Procuratore della Repubblica Andrea Padalino che ha chiesto il sequestro di beni. Si tratta per la precisione di quattro appartamenti e alcuni conti correnti. Davanti ai giudici del Tribunale dell'Aquila sono comparsi i coniugi Ferdinando Di Silvio e Filippa Morelli e Antonio Di Silvio e Rosaria Di Silvio. Per loro sono stati chiesti il sequestro e la confisca oltre alla misura di prevenzione personale e alla sorvedienza speciale nei loro confronti. Secondo la tese accusatoria non hanno mai avuto un raid di totale da giustificare l'acquisto di beni e quindi la legittima provenienza di denaro per poteri immobili costosi. Si ipotizza quindi che si tratti di provento derivante da operazioni o azioni illecite. Il difensore sostiene la legittima provenienza dei beni in questione che sarebbero stati acquistati in date antecedenti alle indagini che provengono anche da eredità. E all'alba di oggi personale della squadra mobile di L'Aquila sessione reati contro il patrimonio in collaborazione con la squadra mobile di Teramo e la sottosezione polizia stradale di Pineto ha arrestato due donne di 48 e 43 anni residenti in provincia di Teramo in esecuzione di due misure cautelari personali e regime di detenzione in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari di L'Aquila Mario Cervellino su richiesta del sostituto procuratore Stefano Gallo. Le due donne appartenenti ad una famiglia abruzzese di origine rom di Alba Adriatica nel pomeriggio del 28 febbraio scorso hanno perpetrato un furto in casa di due anziani coniugi rispettivamente di 90 e 87 anni residenti nel quartiere Torrione del capoluogo. In particolare il 28 febbraio verso le ore 16 le due ladre si sono introdotte con uno stratagemma all'interno dell'abitazione delle vittime facendo loro credere che una di loro fosse la figlia di un'amica di famiglia. Una volta all'interno una delle due si è repentinamente diretta verso la cucina dove ha abbracciato la signora come se fosse una vecchia conoscente chiedendole se stesse bene e riportando le saluti di sua madre. Nel frattempo la complice è entrata furtivamente nelle stanze lasciate aperte sottraendo la somma di circa 400 euro e preziosi in oro. All'identità delle due donne specializzate in furti contro gli anziani gli agenti sono giunti attraverso la collaborazione delle vittime nonché mediante alcuni indizi emersi nel corso delle indagini già delegate dalla Procura della Repubblica di L'Aquila e coordinate dal sostituto procuratore Stefano Gallo. Nel corso delle perquisizioni domiciliari delle due donne sono stati sequestrati circa 1.000 euro in contanti 11.000 pesetes, 200 franche svezziere preziosi tra cui collane, orecchini ed orologi. Ed alcuni furti sono stati messi a segno nella giornata di ieri in particolare i ladri hanno messo letteralmente a suo quadro una villetta ubicata in località Corona del Comune di Massadalbe. Il colpo è stato messo a segno nel primo pomeriggio quando, cioè i titolari di una coppia di commercianti con attività nel centro di Avezzano avevano lasciato l'abitazione per recarsi al lavoro. La sera quando sono tornati a casa hanno trovato tutti i locali su pellettili in uno stato di totale di grado armadi letteralmente smontati su pellettili rotte, vestiari gettati a terra. Insomma, non hanno risparmiato nulla causando danni persino alla vasca idromassaggio. È del tutto evidente che i ladri erano alla ricerca solo di denaro ed oggetti d'oro e argento che in ogni caso sono riusciti a scovare. Alla coppia non è rimasto altro da fare che avvisare i carabinieri che giunti sul posto hanno effettuato i rilevi di propria competenza nel tentativo di giungere all'identificazione dei responsabili. La Proloco di Avezzano e l'amministrazione di Angelis è in lite per la decisione presa dallo stesso Comune di trasferire il comando della Polizia Urbana dall'attuale serie di via Abdominzone all'interno del parco Arsa di Piazza Torlogna. Una serata di dichiarazione abbastanza dura da parte dei vertici della Proloco che hanno rimproverato al Comune di essere stati messi di fronte al patto compiuto e quindi impossibilitati anche ad un minimo di confronto. Ma vediamo ora il servizio. Una serata non proprio all'insegna del vogliamoci bene. La Proloco e gli amministratori del Comune di Avezzano sono arrivati ai ferricorti nel corso di un incontro che si è tenuto ieri all'interno del parco Arsa di Piazza Torlogna. Il motivo era rappresentato dalla decisione da parte del Comune di trasferire il comando della Polizia Urbana dalla sede attuale di via Dominzone ai locali del parco Arsa suscitando perciò le ire dei vertici della Proloco che a loro dire sono stati messi di fronte al fatto compiuto e quindi impossibilitati anche a un minimo di confronto e dialogo. Particolarmente irritato il professor Io Leonio che in alcune dichiarazioni rilasciate al nostro microfono ha esternato tutto il suo malumore. Insieme al professor Leonio ascolteremo a seguire anche Federico Tudico, Augusto Di Bastiano e Gabriele De Angelis, il sindaco di Avezzano. C'è stata una discussione interessante, a tratti anche un po' vivace nella quale noi abbiamo proposto anche come Proloco delle alternative visto che c'è in atto il master plan che prevede che gli uffici dell'ex commissariato siano restaurati che la polizia municipale possa essere trasferita di là. C'era un'urgenza, noi abbiamo sostenuto che l'urgenza non c'era perché il palazzo Torlonia sta lì dalla fine del 1800 e quindi può aspettare ancora un anno o due per una sistemazione definitiva e visto che c'è un'alternativa potevamo, come dire, accedere all'alternativa. Mi dici turbato perché mi hai visto uscire? Sono uscito perché quando il sindaco ha detto che il sindaco lo fa lui e che la città lo amministra lui e che quindi non ha bisogno di consigli mi sembra di aver detto garbatamente allora amministra lei, arrivederci e grazie. Professore, sarebbe veramente un'appropriazione indebita quella di dare la destinazione d'uso del palazzo Torlonia al comando. Secondo lei da questo incontro che cosa può emergere? Si farà o non si farà questo trasloco? Emerge la volontà e la pervicace di procedere. Alla tua domanda io non so rispondere per il semplice fatto e non so se questa amministrazione resiste, se va avanti, se non va avanti, eccetera. E comunque c'è una deliberazione già dell'aggiunta municipale che destina l'ala est del palazzo Torlonia a uffici dei vigili urbani e anche qui all'inizio c'è stata una nostra contestazione per dire se avete già deciso perché ci avete chiamato. In genere si chiamano le associazioni e le organizzazioni quando si tratta di assumere una decisione per acquisire pareri. Se avete già assunto una decisione ci sembra del tutto inutile averci convocato. Abbiamo ascoltato il sindaco il quale dal 2015 ad oggi ci ha illustrato tutti gli atti amministrativi fatti dal comune e siamo venuti a conoscenza perché di questa cosa non ne sapevamo nulla che nel 2017 l'amministrazione ha fatto richiesta alla regione per l'utilizzo dei locali dell'Arsa per trasferire il comando dei vigili, l'intero settore dei vigili a trasferirlo al palazzo Arsa. La regione ha risposto nel 2017 in maniera positiva e sia la regione sia il comune sono andata avanti con gli atti amministrativi per questo trasferimento. La regione da parte sua ha fatto tutte le verifiche statiche di sicurezza dell'immobile e per cui sono state spese anche dei soldi. Noi siamo rimasti un attimino lì per presti perché noi veniamo da un'idea del masterplan, dell'idea del palazzo della cultura, il palazzo da utilizzare per questioni collettive. Dopo l'altra notizia che siamo rimasti un attimino fermi perché è una notizia che c'è da un'affermazione del sindaco che l'ex homini verrà trasformata interamente per Pinacoteca. A questo punto noi abbiamo un palazzo come Pinacoteca, 55 stanze all'interno dell'Arsa, abbiamo l'ex sale, tanti tanti di quei spazi e siamo rimasti un attimino fermi. La novità è che di quest'atto amministrativo che esiste, per cui c'è una richiesta e una risposta per l'utilizzo di questa vita. Il trasferimento totale del comando dei vigili urbani all'interno del palazzo Torlogna è una domanda che sorge spontanea. Perché? Guardi, lei ha sentito mai parlare di tempeste dentro un bicchiere d'acqua? Ecco, questo è un caso che si tratta di questo, perché mi sono reso conto che mancavano alcune informazioni e giustamente, legittimamente, diverse persone in città, le associazioni, hanno lamentato questo trasferimento perché ritenevano esso stesso non logico. Oggi abbiamo chiarito il perché di tutti questi passaggi, non stiamo facendo altro che proseguire un iter amministrativo già iniziato, deliberato fra l'altro dal Consiglio Comunale. Quindi era tutto noto e tutto trascritto negli atti, questo trasferimento era in itinere. Noi non abbiamo fatto altro che dare attuazione a un iter amministrativo già iniziato. Fra l'altro sono anche cambiate le condizioni da quando è iniziato quell'iter. Quindi noi trasferiamo la Polizia Municipale che occuperanno 15 stanze su 55 stanze totali, le altre saranno adibite assolutamente a iniziative culturali. L'Arza non perderà la destinazione di spazio riservato a associazioni e attività culturali. Col soprintendente la settimana scorsa abbiamo elaborato un piano organico di intervento, quindi ci saranno cose molto interessanti, il Museo Archeologico, l'Archivio di Stato e tutto potrà essere messo in perfetta armonia con l'obiettivo che era originario, cioè riqualificare il Palazzo dell'Arza che, ripeto, non è di nostra proprietà e che costerà all'amministrazione circa 180-200 mila euro l'anno. Quindi dobbiamo renderlo fruibile ma anche con una logica che non sia soltanto sperpero di denaro. Lei ha parlato di una riqualificazione dell'ex onmi per diventare una pinacoteca. Ora mi domando perché non ristrutturiamo l'ex omni come palazzo della Polizia Urbana e lasciamo la pinacoteca in un contesto di un palazzo storico che meriterebbe veramente più attenzione? Guardi che l'attenzione è massima al palazzo storico, quindi inserire la Polizia Municipale non è non dare attenzione ma è qualificarlo ancora di più. occuperanno uno spazio marginale, garantiranno la guardiania e tutto quello che occorre per poter vivere il palazzo e il parco dalla mattina alla sera in massima sicurezza. Sono moltissime le ville di alto prestigio che all'interno accolgono anche comandi di polizia. In Italia, in Europa, nel mondo. Quindi non stiamo facendo nessuna cosa di strano ma è una cosa molto logica e razionale. Solo che negli altri paesi del mondo ci sono più palazzi storici. L'ultima cosa, la necessità dell'urgenza, poi uno prevede anche il sabato mattina con il mercato come si muovono tutti questi rappresentanti all'organico della Polizia. Perché l'urgenza di levare un presidio che è importante per la zona nord che diventerebbe deserta e inserirlo in un contesto cittadino, lei poi ha visto che adesso è uscito anche questo fatto di Piazza Matteotti con lo stupro alla ragazza. Come mai questa urgenza? Ce lo deve dire il sindaco perché resta un dubbio enorme. Ma guardi, sulla sicurezza questa amministrazione ha attuato, lei lo ricorda, il primo piano di controllo territoriale mai fatto da nessuna città di queste dimensioni. Quindi lo stupro di Piazza Matteotti è una cosa gravissima. Noi abbiamo attivato questo piano dal primo marzo ed è un piano finalizzato ad aumentare al massimo il controllo in questa città. Fra l'altro il comune per partecipare a questo piano ha un esborso finanziario superiore ai 150-200 mila euro. Questa era la difficoltà di farlo e anche per gli altri comuni. Quindi non stiamo dando il massimo, stiamo dando di più. Non penso che l'assenza del comando della Polizia Municipale alla parte nord diminuisca la capacità di controllo perché la città è controllata fra l'altro con questo nuovo piano strategico e non è un comando che aumenta o diminuisce. Noi stiamo facendo anche una rotazione nell'ottica di sistemare tutti quanti altri plessi comunali per poi arrivare anche a riposizionare la maggior parte di questi uffici all'interno del contratto di quartiere che è una cosa a cui teniamo molto, sono tanti soldi buttati e sprecati noi dobbiamo recuperare anche quel complesso. Alla fine con l'ultima azione che faremo, il recupero del contratto di quartiere potremmo sistemare anche altri plessi urbani. Una scelta perché la Polizia Locale secondo noi è centrata ed assolutamente aumenta anche il prestigio del palazzo all'interno dell'Arsa e dove è la Polizia Municipale metteremo gli uffici dell'urbanistica. La sua considerazione dopo questo incontro? All'esito dell'incontro che tra l'altro mi ha fatto molto piacere intervenire e dire la nostra perché come Presidente della Prologo io non sono una persona fisica, un soggetto finalizzato a sé stesso ma rappresento una situazione che oggi a Avezzano è la più importante e conta oltre 5.000 iscritti. Per manifestare un secco no viene ribadito perché sebbene il Sindaco abbia rielaborato, abbia esposto tutte le motivazioni per il quale così in qualche modo è stato costretto a fare questo passaggio della Polizia Locale sovralconcernamento al Palazzo del Principe, tra l'altro uno dei luoghi più storici della città, rappresenta la terra, l'acqua e noi non siamo d'accordo. Non siamo d'accordo perché questa idea proveniva da un'idea che praticamente si andava a sviluppare come un volo culturale e insomma viene sminuito, viene snellito, snaturato quel progetto iniziale. Che dire, parlare a me che sono un poliziotto di sicurezza e di portare la Polizia Locale al centro non significa niente, voglio dire, noi stiamo sopra il concernamento e non mi sembra che possiamo intervenire. Vedete questa è un'idea un po' estratta, le caserme prima dei Carabinieri venivano dislocate in tutto il territorio in modo capillare perché non c'erano i mezzi di comunicazione ma oggi come oggi parla di dislocazione al centro perché uno è più presente e si commettono meno reati e poi chi li dovrebbe intervenire a seguito di questi reati. Cioè l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica fino a prova contraria è demandata a noi e non alla Polizia Locale. Però questo è un discorso che manco mi ci vorrei ficcare di tanto. A cercare di far recedere l'amministrazione comunale dalla decisione presa sono stati anche numerosi altri professionisti avezzanesi ma la loro petizione online che pure ha fatto riscontrare parecchie adesioni non ha fatto recedere dalla decisione presa e a breve la Polizia Urbana andrà ad occupare la nuova sede all'interno del Parco Arsa con buona pace di chi aveva sperato che quel sito venisse riservato solo alla cultura. E dopo un mese e mezzo di mobilismo e stalo amministrativo il Presidente Luciano D'Alfonso non scherzi sulla pelle degli abruzzesi e responsabilmente rispetti ciò che prevede la Costituzione italiana e non trovi scappatoie sotto i fuggi inutili e dannosi ma si proceda alla determinazione delle votazioni regionali nel mese di ottobre prossimo o sia nei tempi tecnici previsti secondo la legge. Lo hanno detto i consiglieri regionali di Forza Italia durante la conferenza stampa di stamattina a Pescara. Troviamo il riguardoso, hanno detto gli azzurri, cercare tra le pieghe del pensiero di un maestro del diritto costituzionale. Quali fu Costantino Mortati? Un appidio, una qualsivodi a parola che avvalori strumentalmente ciò che è in fatto di compatibilità tra la carica di Presidente della Giunta regionale e quella di Senatore della Repubblica è per il diritto assolutamente chiaro. E l'ordinamento giuridico è sul punto assolutamente chiaro. L'assunzione della qualità di membro elettivo del Parlamento, scrive Mortati, ha luogo con la proclamazione dell'avvenuta elezione. Il regolamento del Senato dichiara che i senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni per il solo fatto della elezione o della nomina dal momento della proclamazione se eletti o dalla comunicazione della nomina se nominati. Da tutto questo hanno affermato i consiglieri di Forza Italia. Si ricavano due cose semplici che se i senatori a partire dall'atto della proclamazione che dal momento dell'assunzione della qualità di senatore è fatto di vieto di cumulare due cariche elettive, quella di senatore e di Presidente della Giunta. La società Snam, seguito del decreto autorizzativo alla costruzione dell'impianto di compressione del gas a Sulmona, rilasciato il 7 marzo dal Ministro dello Sviluppo Economico, è emesso il seguente comunicato di stampa. Con riferimento al decreto sulla realizzazione della centrale di compressione del gas di Sulmona, Snam rende noto che l'avvio dei lavori sarà preceduto dall'esecuzione delle attività previste dalle prescrizioni del decreto di valutazione di impatto ambientale rilasciato il 7 marzo 2011. In particolare, Snam avvierà in accordo con gli enti competenti il progetto della rete di monitoraggio delle emissioni e del rumore. Saranno quindi realizzate nell'area del Comune di Sulmona delle centraline di rilevamento delle emissioni atmosferiche. Tale attività avrà inizio almeno un anno prima dell'avvio della fase di cantiere. Inoltre, sempre prima dell'avvio dei lavori, Snam procederà alla redazione di un piano dettagliato del biomonitoraggio. Tale piano, che sarà comunicato alla Regione Abruzzo e ai vari ministeri, sarà sviluppato sull'intera area della centrale di Sulmona e avrà durata decennale. Così come previsto nel decreto via Snam, si impegna a utilizzare i sistemi di combustione di abbattimento delle emissioni previste dalle migliori tecnologie attualmente disponibili. Snam ha già in esercizio 11 centrali di compressione del gas, dislocate lungo il territorio nazionale a servizio degli oltre 32.500 km di gasdotti. Attualmente la società è in corso di realizzazione di due nuove centrali ubicate rispettivamente in Emilia-Romagna, nel comune di Minervio e in Lombardia nel comune di Sergnano. Snam continuerà a dialogare in modo trasparente e aperto con la popolazione e le istituzioni abruzzesi. L'approvazione definitiva della centrale Snam di compressione di case Pemte sul Mona è una vera e propria sfida alla comunità abruzzese e alla democrazia da parte di un governo screditato dal voto e di dirigenti ministeriali che paiono essere totalmente partigiani di una causa, quella di trasformare il territorio abruzzese italiano in un hub del gas richiesto dalle aziende per esportare gas e fare profitto. Il coordinamento no hub del gas Abruzzo che riunisce comitati, movimenti e cittadini che stanno lottando da anni contro il progetto complessivo di far diventare l'Abruzzo un distretto minerario attraverso singole iniziative come la centrale Snam di Sulmona e il relativo gasdotto della rete adriatica non può che commentare in questo modo la notizia dell'emanazione del decreto autorizzatorio finale della centrale da parte del dirigente del ministro dello sviluppo economico. Un'opera contro cui si erano già schierate tutte le istituzioni democraticamente elette dal Parlamento alla regione agli enti locali. Nonostante il progetto va avanti come se nulla fosse per quella che appare come una regione di Stato solo che non si capisce di quale Stato stiamo parlando perché i cittadini che lo compongono e le stesse istituzioni elette quest'opera non la vogliono per motivi inoppugnabili dall'inquinamento al rischio sismico. In ogni caso la lotta prosegue con i ricorsi e l'opposizione al cuore dell'intervento. Il gasdotto Sulmona Folinio che a sua volta deve ricevere ancora l'autorizzazione. Per il 21 aprile è programmata intanto una manifestazione a Sulmona e decisano una partecipata assemblea il mese scorso. In seguito dell'intervento dei consiglieri comunali del Partito Democratico di Avezzano, Roberto Verdecchia e Domenico Berardino che avevano criticato l'azione del sindaco Gabriele De Angelis che prima aveva deciso di rifiutare accordi con gli esponenti dell'opposizione e successivamente di aprire con gli stessi un dialogo costruttivo. È intervenuto il portavoce del sindaco Roberto Alfatti Appetiti che ha emesso il seguente comunicato. L'esito della sentenza del Consiglio di Stato era tutt'altro che previsto e prevedibile. Già che le spese legali sono state compensate proprio per la sostanziale originalità dell'oggetto e le complesse implicazioni interpretative ad esso relative. Chi dovesse insinuare il contrario dimostrerebbe poca tensione a quanto sancito dalla sentenza stessa avventurandosi in dichiarazioni strumentali e pretestuose. L'amministrazione ha sempre cercato di garantire la governabilità nel principio interesse dei cittadini. Nove mesi or sono dopo una durissima campagna elettorale. La governabilità era una mera utopia e ancora oggi come le dimissioni del sindaco testimoniano rimane un traguardo difficile da raggiungere. Traguardo non impossibile laddove il sindaco De Angelis dovesse confrontarsi con politici che abbiano a cuore il bene della città, tra quali non potranno essere annoverati coloro che sono abituati ad abbagliare alla luna, ormai irraggiungibile dopo gli esiti delle politiche. Eri siamo nel comune di Avezzano in quanto domani sabato come noto si itera il Consiglio Comunale per procedere alla composizione del nuovo assetto politico conseguente alla decisione del Consiglio di Stato che è colto il ricorso nella coalizione di Giovanni Di Pangrazio ribaltando gli equilibri preesistenti. Nel frattempo il consigliere comunale di opposizione ed ex vice sindaco nella giunta Di Pangrazio Ferdinando Boccia ha fatto presente quanto segue che il passaggio di una crisi in un'amministrazione municipale sia una fase delicata, questa è cosa risaputa e comprensibile, ma che si possa andare in confusione al punto da mettere a ripentaglio la gestione di cose importanti di emergenza, questa invece è una cosa inaccettabile. Fa presente di aver scoperto che nell'azzerare la giunta il sindaco De Angelis ha dimenticato di nominare un suo vice che per l'ordinaria amministrazione o case eccezionali o di emergenza possa sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento. Mi sono accorto di questa anomalia dichiarato Boccia e mi sono recato in comune per verificarla. Purtroppo le cose stanno davvero così. Se il sindaco fosse impedito a presenziare in casi eccezionali e per decisione di urgenza la città non saprebbe a chi rivolgersi perché in sostanza manca l'autorità predeterminata. In comune chiude Boccia, devo dire di aver trovato molto imbarazzo e parecchia agitazione per la situazione determinata, sì che spero De Angelis voglia sistemare quanto prima. E diere in occasione della giornata internazionale della donna di agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Sulmona insieme agli operatori dell'associazione Horizon Service che gestisce centri antiviolenza la libellula di Sulmona e donna di Casa di Sangro, sono stati presenti presso la Galleria Commerciale Nuovo Borgo per proseguire l'opera di sensibilizzazione sul fenomeno sommerso della violenza di genere e per la difesa dei diritti delle donne. Alle 50 persone che si sono soffermate nel punto informativo allestito per l'occasione sono state distribuite anche di opuscoli realizzati dal Dipartimento della pubblica sicurezza per la campagna di sensibilizzazione promossa su tutto il territorio nazionale da diversi anni. Una campagna itinerante che sta toccando vari punti della provincia aquilana coinvolgendo tutta la collettività, dalle scuole alle associazioni al mondo del lavoro per rivolgare gli strumenti normativi sociali di accoglienza e sostegno che possono essere messi in campo per combattere la violenza di genere. L'obiettivo è quello di superare stereotipi e pregiudizi per l'affermazione di una nuova cultura di genere e aiutare le donne a vincere la paura rompendo l'isolamento e la vergogna. Domenica 11 marzo, a mediano di marsi, in occasione dell'apertura al pubblico del Museo dell'Uomo e della Natura dei Carabinieri Forestali, la trasmissione di Canale 5 e l'Arcadino e trasmetterà alle 13.40 un servizio realizzato in occasione della cerimonia di inaugurazione del Museo dello scorso 19 febbraio, curato dalla giornalista Maria Luisa Coccozza che ha presenziato all'inaugurazione. Il nuovo Museo dei Carabinieri Forestali, denominato MUN, è stato intitolato alla memoria di Alfonso Alessandrini, storico direttore generale dell'economia montana e foreste del Ministero Agricoltura e Foreste ambientalista, che fu capo del Corpo Forestale dello Stato per 15 anni. Inserito in un contesto naturalistico unico, esempio concreto della natura per tutti, il Museo rappresenta un prestigioso centro di conoscenza e sperimentazione della natura grazie alle tecnologie innovative e interattive e all'accessibilità per i portatori di disabilità motori e sensoriali. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte, fra di altri, comandante dei Carabinieri Forestali, generale di Corpo d'Armata Antonio Ricciardi, il prefetto dell'Aquila Giuseppe Linardi, il prefetto di Zernia Fernando Guida, il sindaco di Mediano De Marsi, Mariangela Amiconi, il presidente della provincia di L'Aquila, Angelo Caruso, presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio, il consigliere regionale Lorenzo Berardinetti, numerose tra le autorità civili e militari. Il museo e il centro visita situati presso la riserva orientate del Montevelino saranno aperti al pubblico, quindi da domenica 11 marzo e inosserveranno i seguenti orari, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. Questa era l'ultima notizia, quindi il giornale termina qui. Prima di salutino, come sempre, vi ricordiamo che questa edizione la potete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano, dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Vi lasciamo alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Un ben ritrovati all'aggiornamento meteo di Antena 2. Come possiamo notare dalla nostra immagine grafica, un'aria di alta pressione richiamerà sulla nostra penisola correnti da aria molto mite, accompagneranno aria moderatamente calda sulle regioni meridionali dove le temperature supereranno i 20 gradi, aria mite che verrà attanagliata da una perturbazione, venti di libeccio e di scirocco che saranno preceduti nella giornata di domenica da rovesci di pioggia anche a carattere temporalesco. Intanto nella giornata di sabato, come potete notare, avremo della nuvolosità in aumento specie sui settori occidentali, mentre il tempo sarà soleggiato all'insegna del bel tempo sulla fascia triatica. Il sole splenderà anche sui nostri settori interni, ma nel corso del pomeriggio, come vi dicevo, il cielo tenderà a coprirsi. Le temperature massime a causa dei venti dai quadranti meridionali di libeccio e successivamente anche di scirocco saranno in deciso aumento, comprese tra i 14 e i 18 gradi. Le temperature minime anche esse subiranno un lieve aumento, soprattutto sulla fascia costiera, ma anche sulle nostre zone interne. È tutto, grazie per la cortese attenzione e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.